ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo come ogni giovedì aggiornamento settimanale come vedete auto del podio è la aniseurus se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale lasciate mi piace perché come vedete appena c'è un aggiornamento su gta vi porto subito il video e vi informo che voglio fare altri video su gta riguardo l'aggiornamento settimanale visto che spesso mi chiedete quale veicolo comprare come fare i soldi quindi probabilmente riprenderò a fare i video come prima diciamo anche se c'è meno utenza su gta online fatemi sapere cosa ne pensate che ne so il video del venerdì è quale cose comprare che insomma quale cose sono migliori da comprare in sconto e l'altro video è come fare i soldi su gta online ovviamente dipende dalla settimana come vedete poi auto del autoraduno trovate la gb200 eccola qui per vincerla potete vedere appunto dall'autoraduno lo santo sfida veicolo trofeo dal mio interazione dovete arrivare tra i primi in una gara delle serie di gare dell'autoraduno lo santo per due giorni di fila quindi come vedete questi qua sono appunto i requisiti per vincerla in più come vedete auto del test track che trovate solo all'interno dell'autoraduno troviamo la ocelot locust come vedete eccola qua poi abbiamo la enus paragon r ovviamente non quella blindata quella normale e poi la bravado verlierer come vedete sono questi veicoli qua e tra tutti questi c'è la ocelot locust che è in sconto quindi se volete la potete comprare proseguendo abbiamo come vedete questo fantastico veicolo che è l'arbitrar gt che ha già le modifiche di ao quindi lo potete comprare è esclusiva next gen quindi solo ps5 xbox series x ed s quindi se non avete quella piattaforma non potete invece dal buon simone come vedete abbiamo questi cinque veicoli la bifta la lampada di viseris la ocelot swinger la pegassi batti batti 801 rr e la vulcar vulcar warrener vi dico subito che la appunto swinger è in sconto quindi se volete potete comprarla qui da simeon visto che credo che non sia più presente sul sito è uno dei veicoli rimossi poi abbiamo come vedete la vapid dominator gt dal luxury autos quindi quell'altro autosalone in centro città e ovviamente la grotti turismo maggio questa settimana come vedete eccola qua abbiamo come vedete i veicoli del chop shop che questa settimana sono questi tre abbiamo la overflow out arch la dinka jester classic e la niss elion come veicolo top ovviamente si tratta della out arch standard la jester classic e invece il veicolo basso quindi quello che vale meno è la elion veicolo in sconto pegassi torero x 0 con 40 per cento di sconto grotti furia con 40 per cento di sconto abbiamo tutte quante le barche scontate come vedete la lampada di toro la long fin la speeder il marquis il jet max addirittura il kraken per chi insomma ce l'ha a pagamento quindi dovrebbe essere scontato questa settimana poi ovviamente la locus la swinger è scontata e li trovate insomma uno all'autosalone al scusate all'autoratuno e l'altra da simeon poi abbiamo anche la stazione sonar questa settimana in sconto per il vostro cosatka quindi se non avete il cosatka da comprare assolutamente la stazione sonar è da comprare secondo me ragazzi ci sta se volete avere un sottomarino completo non è essenziale è noioso da fare insomma alla fine della ricerca delle casse però questa settimana hanno i soldi bonus e adesso ci arriviamo poi come diciamo business tra virgolette in sconto abbiamo il come vedete yacht con ovviamente le relative modifiche è scontato del 30 per cento quindi se vi fate il conto dovreste risparmiare un po normalmente costa tra i 5 e 6 milioni uno yacht tra insomma modello finitura illuminazione colore eccetera eccetera quindi se siete nuovi ovviamente è una spesa inutile se volete fare delle missioni carine potreste anche valutare di comprarlo visto che questa settimana ci sono i soldi e gli rp doppi su tutte quante le missioni dello yacht quindi le trovate anche tra le missioni come vedete se le avete completate sono questa qua vita da super yacht con soldi rp doppi sono carine ho un buon ricordo di queste missioni quindi se le volete fare secondo me ci stanno tranquillamente poi abbiamo estrazione come modalità competizione con soldi e rp tripli come vedete eccola qui e poi questa settimana abbiamo le casse nascoste in giro per lo santos con i soldi e gli rp doppi quindi sarebbero le casse che potete trovare con la toria d'or che infatti è molto più facile e conveniente oppure con il sottomarino con la stazione sonar per quanto riguarda le prove a tempo questa settimana sono le seguenti io spero che questo video vi sia stato utile ci vediamo insomma domani con altri video e anche addirittura più tardi con un video su gta 6 visto che ci sono delle novità molto molto importanti